ultimo dell'anno pulizie di primavera e degli irriducibili ne rimase solo uno comunque a parte gli scherzi oggi un'altra giornata per la ligure partenza adesso partito da pietra andando a finale dove incontrerò il dario e alan e andremo a fare il giro delle 24 ore vuoi far cambiare con la sua? c'è anche l'insalata beh ottimo mi sembra che fanno un affare lui fa l'affare però io ho pedalato più di voi sicuramente ero alla pari quasi di ganna ah fischia è un suo coetano no fotti romani bella circle track un po di fanghina vetrine e andiamo sull'asfalto delle mani e incrociamola 24 ore a metà se no se andiamo di qua l'hai mai fatta andiamo su di qua andiamo su di qua andiamo su di qua per andare e facciamo il toboga allora il toboga lo facciamo due volte mi stanno tirando un po il collo mi sto affrontando un solitone spacca gambe spacca fiato è bella ripida eh 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 eh ma probabilmente sono da un'altra parte è sempre qua alle 24 ore eh immagini sono stati buona 6 10 15 15 15 15 16 15 16 16 17 faccio perché stasera ti voglio bello brillante a tavola è sempre divertente dopo un po ti gira la vista perché ti ubriaca anche se non bevi ci sono sempre dei pozzangaroni di merda tagliamo tanto è un 200 metri facciamo il giro da 24 ore poi ritorniamo e dopo si ritorna da dietro rifacciamo questa poi rifacciamo ancora un pezzettino piccolissimo di asfalto poi scendiamo giù tutto il giro sono 35 km però il dislivello no no ma non è tantissimo adesso il dislivello più o meno siamo qui ormai non è che facciamo più tantissimo ciò cara no 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 dopo rifacciamo questo pezzetto qua e però andiamo su di qua e andiamo ritorniamo su in cima alle magne e andiamo a fare toboga no no toboga è di là e quando scendiamo alla fine di tutto e andiamo a prendere la briga in discesa che è sull'angolo dove c'è la briga c'è la briga al ristorante ecco subito prima della curva della briga andiamo giù e quindi appena finito di dire che c'è sempre qualche perla che viene su al contrario si guarda questi passaggi la dh donne l'hai mai fatta? si l'abbiamo fatta una volta con Gianluca ah quella dh donne? no io l'ho mai fatta no io l'ho mai fatta questo qua si chiama territorio indiano si qua ti congiungi anche alla dh donne la prendi invece se andiamo dritti facciamo il giro che hai detto tu adesso andiamo di qua e poi a un certo punto arriviamo dove c'è dh uomini dh donne e 24 ore ci siamo trovati dentro con Gianluca eh che era in piedi dietro cazzo è arrivata una squadra di ragazze che andava giù a 200 l'unica cosa brutta sono i tornantini fuori sì sono i tornantini fuori figata qua vediamo per quanto riuscirò a star dietro d'alan si è ammollato in salita bello bene anche questo si bello ma più bello l'altro peccolo anche pezzetti figata vista spettacolare ok facciamo un pezzettino di salita fin là dietro praticamente prima eravamo là dietro noi eravamo là sopra si siamo trovati facciamo un po' d'anno a camminare facciamo un po' di sforzi ma cosa fate camminate camminiamo sull'inizio ah bello ma siete tutti voi questo coso ci vado a vedere sul canale youtube così bello eh sì vabbè noi siamo biker youtuber ah ahahah ahahahahahahah ah kier ahahahahahahah ahahahahahahahahah ma non è così semplice eh questa ditta lui va che io la prendo larga che bello divertente ci sono dei bei saltini è bello ci hanno fatto però facendo poi la parte destra una gara di coppa del mondo perché più avanti c'è il bivio si c'è un bivio, ho fatto una speciale di coppa del mondo è qui che esce la divisa, questa è briga sinistra e questa è briga destra però qua ci sono degli scoglioni poi a lunga qui a destra ho fatto la coppa del mondo non vorrei scoglionare esatto è bello tecnico eh, ha lo scassato rocce qua balli, altro che la samba sembra un bel scassatone è un po' scassato, non è ripido no 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 ce n'è un altro pezzetto ancora porti la merda eh abbiamo dovuto far passare i pedoni e quindi sono difficili i sassi orca troia c'è un punto dove anche io in curva nella curva là sopra è andata un po' via beh è divertente però a parte la vesti i sassi qua scivolosi volevo fare c'è una famigliola gli sedesti li facciamo andare giù perché ah sta salendo? no stavo scendendo ma ormai ci sono tre grazie 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 si è terminato ringraziamo Alan della guida grazie a voi per la compagnia grazie cosa diciamo ancora? ci vediamo l'anno prossimo ci vediamo l'anno prossimo auguri a tutti ciao alla prossima grazie